Allora, per quanto concerne il perché dei pensionati con i giovani è una cosa molto importante, per il semplice motivo che noi anziani abbiamo lavorato, abbiamo avuto delle esperienze motivi diverse da quelle che hanno i ragazzi, però non possono essere, ossia non ci possono essere diversità e dobbiamo unire il giovane con il pensionato perché il pensionato riesce a dare molto e il giovane ci dà a noi molto di questa tecnologia che a noi è mancata. E pertanto ritengo che queste esperienze fra giovani e non diciamo anziani, ma persone che si sono ritirate dal proprio lavoro debba continuare in modo sempre più efficace, anche perché noi, oltre che l'insegnamento di un lavoro e dare a loro proprio la felicità di questo lavoro che noi abbiamo fatto, da aiutare il ragazzo a capire quali sono le difficoltà nel proprio lavoro. Oggi come era ieri, le difficoltà non sono quelle di saper vendere per quanto riguarda un commerciante o saper costruire un qualcosa per quanto riguarda l'artigianato, ma per quanto riguarda la vita in per sé stessa. Noi abbiamo veramente, i giovani devono capire che quando noi andiamo a dire qualcosa o vogliamo intrometterci nel mondo dei giovani, non è per questioni bellitarie, ma perché noi vogliamo che questi giovani imparino e vadano ad amare il lavoro che vanno a fare.